Dottore Claudio Visentin che scrive Cosa intende fare con la RAI, signor Gentili, che sta raccogliendo le firme? Aggiungo che sta parlando da un gioiello di televisione, mi perdoni, lo leggo, ci fa i complimenti, ci fa piacere, che fa vero servizio pubblico, dice signor Claudio, e quali sono le sue idee verso le televisioni private, anche come la nostra. Grazie per la risposta. Sì, allora diciamo, sulla riforma della RAI, che poi vale anche per le altre proposte, qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è di presentare questi progetti di legge in Parlamento, ma affinché si apra una discussione su questi problemi. Cioè, noi diciamo, la giustizia così come oggi è amministrata, deve essere mantenuta così com'è o ci devono essere delle proposte per cambiare e in che modo? La RAI fa informazione, è un vero servizio pubblico o invece si deve riconsiderare tutto il ruolo che ha la RAI all'interno della informazione? I sistemi elettorali, come sono oggi, sia per il Parlamento europeo che per la Camera e il Senato, sono dei sistemi elettorali che vanno dritti al loro scopo, che garantiscono governabilità e rappresentatività, oppure no? Quindi ecco, lo scopo delle otto proposte è quello di aprire un dibattito, un dibattito che oggi forse è possibile, perché mentre una volta i progetti di legge di iniziativa popolare si raccoglievano le firme, si presentavano in Parlamento e rimanevano nel cassetto per 5 anni e mai venivano discursi, oggi c'è una novità, perché noi abbiamo utilizzato questo strumento, perché c'è una novità, se no non l'avremmo mai fatto, perché gli altri anni tutti questi progetti rimanevano nel cassetto e non venivano mai discursi. E' stata approvata una riforma del regolamento del Senato che dice che una volta che 50 mila cittadini presentano un progetto di legge, il Presidente del Senato metterà all'ordine del giorno di quella Camera del Senato in tempi brevi e certi e quindi si arriverà finalmente a una discussione e a una votazione su quel progetto. E quindi ovviamente magari ne parleranno i giornali e si aprirà un dibattito su quei temi. Alla Camera non c'è questa novità che hanno cambiato il regolamento, però le dichiarazioni del Presidente della Camera, Fico, nel momento dell'insediamento, lui ha detto molto chiaramente che i progetti di legge che sono presentati dai cittadini devono avere priorità, perché noi sappiamo che la Costituzione dà la possibilità di presentare dei progetti di legge a un deputato, a un senatore, al governo, ma anche a 50 mila cittadini. E' chiaro. E quindi c'è questa novità e quindi noi vogliamo… E' spesso stato disatteso. Sempre disatteso, non si è mai discusso di nessuna proposta di legge, no? In particolare sulla questione RAI, noi cosa diciamo? Noi abbiamo sempre denunciato e criticato la RAI perché ha dato nelle campagne elettorali spesso e volentieri grande spazio a partiti di maggioranza e pochissimo spazio o addirittura nessuno spazio a partiti di minoranza o di estrema minoranza. Noi diciamo che invece la RAI debba dare, specialmente quando ci sono le elezioni, è uguale spazio a tutte le forze politiche. Per capirci, se Forza Italia che nel 1994 si è presentata alle elezioni, ovviamente se fosse stato applicato il metodo attuale, visto che aveva zero rappresentanti, era la prima volta, avrebbe dovuto avere zero spazio, no? Invece noi sappiamo che nelle campagne elettorali, anche per esempio da una cosa maggiore, marginale al giorno d'oggi, ma diciamo che i tabelloni non è che vengono dati il 30% a chi ha il 30% e lo 0,5% a chi ha lo 0,5%. È ovvio che nell'informazione tutti devono avere la possibilità di esprimere la loro opinione, dopodiché, se si presentano alle elezioni, ma anche se non si presentano alle elezioni, dopodiché l'elettore si farà una opinione. Quindi noi con questa proposta di legge cosa proponiamo? Proponiamo di ridefinire completamente quale deve essere, secondo noi, il ruolo del servizio pubblico e questo servizio pubblico, noi diciamo, può essere svolto anche da un privato, come diceva l'ascoltatore, ma come anche fa Radio Radicale che fa un servizio pubblico ma è un privato, no? È, diciamo, proprietà della lista pannella, non del Partito Radicale perché anche lì bisognerebbe distinguere, no? Quindi noi diciamo che la RAI non deve rincorrere la TV privata, deve fare qualcosa di diverso, per esempio sul modello Radio Radicale trasmettere grandi eventi in diretta o in differita, che possono essere grandi eventi politici ma anche culturali o di altro tipo, deve avere trasmissioni di confronto e non solo di, diciamo, il leader politico senza possibilità di contrapposizione con un altro leader politico. e comunque ridefinire completamente il ruolo del servizio pubblico. Dopodiché noi proponiamo che la RAI venga privatizzata, perché privatizzata? Cioè no, prima, dopo la ridefinizione del ruolo del servizio pubblico, noi diciamo che il servizio pubblico deve essere assegnato tramite gara, ci sarà una gara nazionale e delle gare a livello locale. Quindi Tele4, diciamo, nella regione Friuli e Sina Giulia, si potrà candidare ad ottenere il servizio pubblico così come ridefinito e a quel punto se vincerà Tele4, facciamo questo esempio, otterrà il servizio pubblico e i finanziamenti del canone, perché sarà finanziato anche dal canone. Quindi noi diciamo, una volta ridefinito il ruolo del servizio pubblico, il servizio pubblico sarà assegnato a delle TV, che ovviamente devono avere delle caratteristiche, di copertura del territorio, ma anche passato dall'analogico al digitale, attraverso appunto delle gare. A quel punto noi proponiamo la vera privatizzazione della RAI, che potrà concorrere con altri privati e bisogna ricordare che nel 1993 il Partito Radicale con la Lega Nord raccolse le firme su un quesito che si riferiva alla privatizzazione della RAI. Questo quesito fu posto in votazione nel 1995, il quorum ci fu e i sì vinsero. Quindi noi ricordiamo ai vari governi che è stata già decisa la privatizzazione della RAI e quindi noi con questa proposta andiamo a ricordarlo. L'ultima cosa è che ovviamente ci sarà poi la suppressione della Commissione di Vigilanza RAI e il passaggio di queste competenze, cioè controllare se chi vince la gara rispetta la ridefinizione e i compiti che sono stati stabiliti dalla legge sul servizio pubblico, sarà passato all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Chiarissimo. Questo è il progetto di legge. Questo è il progetto, abbiamo risposto direi sicuramente in maniera esaustiva al signor Claudio e sentiamo la prossima.